Siamo partiti da un dato che è allarmante, in Italia sono circa 700 i morti sui lovi di lavoro e il Molise purtroppo è una delle regioni con il più alto tasso di incidenza, quindi partendo da questo dato ci siamo chiesti cosa potessimo fare come ente datoriale, perché quello dei morti sui lovi di lavoro non è un tema che riguarda soltanto i sindacati, quindi lato lavoratori, ma riguarda anche le imprese e soprattutto le imprese. E quindi concretamente abbiamo messo in atto questo protocollo con una importante società di certificazione di Milano, la Quaser Certificazioni, che prevede la somministrazione alle aziende aderenti a confattigiano di un disciplinare, una sorta di audit interno attraverso il quale capire il livello di sicurezza presente all'interno dell'impresa. Nel momento in cui questo livello di sicurezza dovesse risultare inadeguato, a quel punto si procede alla fase B che è quella della vera e propria certificazione, quindi della messa in regola delle aziende. È uno strumento concreto che vogliamo utilizzare per le imprese per capire effettivamente il livello di sicurezza, perché molto spesso l'imprenditore e l'impresa crede di rispettare tutti gli standard, ma poi quando succedono gli incidenti si va a scoprire che effettivamente ci sono delle carenze e delle lacune nella sicurezza. Cerchiamo di somministrarlo grazie a questa convenzione, una tariffa davvero agevolatissima. Grazie a tutti.